Ok, iniziamo ufficialmente la nostra sessione e creiamo questo spazio sacro dentro di noi e intorno a noi. Iniziamo a sintonizzarci in questo momento presente. E iniziamo a rallentare il nostro respiro, respirando nello spazio del nostro cuore. Fai un respiro profondo e immagina di respirare nelle piante dei tuoi piedi. Ed ora immagina di respirare nel centro della tua testa. Ed ora ruotiamo i nostri occhi all'insù, come se stessimo guardando la sommità del nostro capo. E diciamo, anche se non so come trovare la mia pace e il mio equilibrio ora, Tutto quello che so è che è così ora. Io cancello tutto ciò che potrebbe fermarmi o sabotarmi. E scarico tutto ciò di cui ho bisogno ora. Per fare tutto questo con grazia, facilità e gioia. Grazie. Così è, così sarà o qualcosa di meglio. Ed ora, semplicemente immagina di poter entrare in questa bolla di luce dorata. Entraci ora e senti quanto questo rilassa il tuo corpo. Nota come riesci ad allungare e a rendere più profondo il tuo respiro. E magari riesci a sederti un po' più dritto. Rilassa le tue spalle ancora un po'. Nota l'allineamento del bacino. Nota come le piante dei tuoi piedi sono radicate giù nella terra. Nota come il tuo collo è dritto. Ed ora, tutto il tuo corpo si sta rilassando. Mentre partecipi a questo chiaro e cristallino respiro, pieno d'amore. Ed espirando, stai lasciando andare tutto ciò di cui non hai più bisogno. Immagina di portare questo respiro cristallino in ogni cellula del tuo corpo. Purificando ogni cellula. Immagina di portare quella luce nello spazio tra le tue cellule. E nota come il tuo respiro ti sta aiutando a diffondere questa luce. Permetti a questa luce di illuminare il tuo cervello e tutta la tua testa. Permettile di riequilibrare il tuo cervello sinistro e quello destro in modo da portare pace nel tuo cervello. Rilasciando tutti i pensieri di paura e i dubbi. E portando dentro pensieri potenzianti, positivi e d'amore. Ok, molto bene. Ripeti dentro di te. Io sono amore. Ed io sono amato. Io amo. Ed io sono degno d'amore. Nota come tutto il tuo corpo si rilassa quando ti rivolgi a lui in un modo così amorevole. Permetti ora a questa luce di scendere nel tuo collo e nelle tue spalle. Permetti a questa luce di alleviare ogni fardello che potresti portare per te stesso o per gli altri. Nota come tutti i muscoli del collo e delle spalle si stanno rilassando ora. Ogni ispirazione ti permette di rilasciare e di lasciare andare. ed ogni ispirazione ti permette di portare dentro di te questa energia d'amore ad un livello sempre più profondo dentro di te. Nota come il tuo respiro sta diventando più profondo, più lungo e più calmo. Ed ora porta il tuo respiro nel centro del tuo cuore. Permetti a questa luce di ripulire l'area attorno al tuo cuore da ogni dolore, ogni sofferenza, ogni memoria del passato. Immagina che ogni respiro che fai è come una dichiarazione d'amore verso te stesso. Perché tu meriti questo amore. Senti questo amore. Permetti a te stesso di ricevere così tanto amore. Porta questa luce piena d'amore e di guarigione nello spazio dei tuoi polmoni. Senti ogni respiro, senti te stesso nella luce. Permetti a questa luce di scendere giù nelle braccia, fino al palmo delle tue mani. Senti ogni energia, centrata nella pura luce divina. Veni dicendo ogni muscolo, ogni tendine, ogni giuntura e ossa del tuo corpo. aiutandoti a riallinearti con l'amatrice divina di salute e felicità. che ti sta dicendo che puoi condurre una vita in cui ti senti al sicuro. in cui ti senti sana e felice. Una vita che puoi vivere con facilità e gioia. Immagina di portare questa luce su e giù lungo la tua spina dorsale. Nota come l'energia fluisce facilmente dentro di te. Permettile di nutrire ogni parte di te. Diventa consapevole diventa consapevole dello spazio che c'è tra le vertebre della tua spina dorsale. Riempi questo spazio con tutto l'amore che senti dentro di te. Nota come sostenere te stesso o tutto quell'amore dentro di te ti fa sentire bene. Nota come il tuo respiro è facile. Nota come il tuo respiro è nutriente e calmo. E permetti a te stesso di accogliere ancora di più quella luce quella chiara luce bianca. e portala nello spazio intorno al tuo ventre. Fai un respiro profondo di pancia e senti questa luce che si espande in tutta l'area del tuo ventre. Permetti a questa luce di espandersi in tutti gli organi del tuo ventre. Il fegato, la milza, il tuo stomaco, il colon, il tuo organ. Tutti le parti del tuo sistema digestile e riproduttivo sono state riempite di luce. Questa luce è così forte e rimuove immediatamente tossine, modelli disfunzionali. portando dentro il programma per cellule sane. Tanta vitalità e una lunga vita gioiosa. fai un respiro profondo nel tuo ventre. Permetti che si espanda e poi ispirando liberati di tutto ciò di cui non hai più bisogno. Ora facciamolo altre tre volte. ispirando e sentiti riempito da questa luce. ed espira tutto ciò di cui non hai più bisogno. ancora una volta. molto bene. ed ora permetti a questa luce di raggiungere i tuoi fianchi e le tue gambe. permetti che arrivi alle tue ginocchia. permetti che arrivi alle tue ginocchia. spazzate via da questa luce. spazzate via da questa luce. consente a questa luce ora di illuminare i tuoi polpacci. le tue caviglie, i tuoi piedi. ed ora prendi il respiro più grande che puoi e senti te stesso riempito da questa bianca luce di guarigione. ed ora tutti i livelli del tuo essere rilasciano tutto ciò che non ti serve più. senza sforzo, con grazia e amorevolmente. ogni tipo di batteri, virus, tossina, qualunque cosa che possa trattenerti sta ora lasciando il tuo corpo mentre ti stai allineando con il campo elettromagnetico della Terra permettendo al tuo corpo, mente e spirito di riallinearsi con il tuo sé ideale, il tuo self quantico. la versione migliore di te stesso, in salute e felice amorevole, saggio vedilo, sentilo, ascoltalo sì, ne è consapevole profondamente dentro il tuo cuore sì, questo è ciò che meriti tu meriti quella vita allora fai tuo quel potenziale dentro di te ora fai un altro respiro profondo nel tuo cuore ed ora immagina te stesso mentre fai ciò che ami immagina di vedere te stesso felice con un grande sorriso sul tuo volto completamente libero da preoccupazioni e dubbi completamente libero da preoccupazioni e dubbi portando quell'amore nel tuo cuore, quella fiducia nella miglior versione di te stesso immagina di portare dentro di te tutte quelle risorse, di scaricarle nel tuo sistema tutto ciò di cui hai bisogno tutto il coraggio tutta la fede tutte le abilità per fare ciò che hai bisogno di fare col tuo prossimo respiro profondo porta tutto ciò nel qui ed ora diventa consapevole dello spazio dove ti trovi ora senti le dita dei piedi, le tue mani quando apri gli occhi hai la conferma che il tuo sistema è stato riprogrammato sei allineato con il tuo bene più grande sei allineato con il tuo bene più grande uno respira profondamente due allarga le braccia in alto stirati e torna nel qui ed ora e torna nel qui ed ora ok facciamo del buon tapping siete pronti? ripetete dopo di me io amo e accetto me stesso anche se delle parti di me sono connesse con il bottice che mi sta portando giù e io amo e accetto me stesso quando ora non sono più connessa con nessun vortice nocivo ma sono solo connessa con l'amore io amo e accetto me stessa anche se ho paura ed amo e accetto me stessa quando sono coraggiosa io amo e accetto me stessa anche se mi sento sopraffatta ed io amo e accetto me stessa quando scelgo di essere capace molto bene ok e adesso sotto il braccio sinistro anche se parti di me dubitano della situazione dubitano di me stessa anche se ho perso la fiducia di sapere ciò che ho bisogno di sapere anche se non credo in me stessa io ora scelgo di rilasciare tutti i miei dubbi io ora scelgo di credere in me stessa io scelgo di notare che ogni volta nel passato in cui ho dubitato di me stessa comunque ce l'ho fatta la mia esperienza relativa al superamento delle sfide è buona ora io so che posso farcela ottimo lavoro ottimo lavoro anche se mi sento triste e stanca e stressata io amo e accetto me stessa e scelgo ora di entrare nel mio potere di gioia so che merito di essere felice e anche se le persone intorno a me sono tristi io posso scegliere di essere felice respira respira ottimo lavoro ora sotto la clavicola una mano una mano o due mani premiamo sui nostri punti del coraggio io amo e accetto me stesso anche se parti di me hanno paura io amo e accetto me stesso anche se ho paura di ammalarmi io amo e accetto me stesso anche se ho paura di ammalarmi tutti questi pensieri sono solo memorie del passato perché io scelgo di essere coraggiosa e di avere fiducia nel mio amore e di avere fiducia nel mio corpo posso farlo lo farò lo sto facendo ora e respira ora sotto la gabbia toracica a destra c'è il tuo fegato diamo al nostro fegato un fantastico massaggio massaggiamo e diciamo grazie al nostro fegato per tutto il lavoro che svolge per noi grazie perché ti occupi delle tossine grazie perché ti sbarazzi di tutto ciò che non mi serve più grazie perché lavori bene con i miei reni e con la mia milza perché mi mantieni in salute grazie per questo ora immagina mentre stai picchiettando sul tuo fegato che puoi portare questa bellissima luce verde di guarigione proprio nel tuo fegato e diciamo io perdono me stesso per essermi dimenticato di quanto sono forte io perdono me stesso per il fatto di sentirmi arrabbiato e ora scelgo di lasciare andare questa rabbia scelgo ora di essere in pace con me stessa e con tutti coloro che ho attorno e respira ed ora con la mano in alto nell'aria davanti al chakra del cuore e della corona ok ora dobbiamo fare sul serio ok ora immagina di avere un coltello nella tua mano e noi stiamo tagliando i legami stiamo tagliando ogni connessione col dolore e con la sofferenza e ora guardiamo il problema negli occhi guardiamo il coronavirus negli occhi e tutto il vortice che si porta dietro ora diciamo io rivendico il mio potere e ti restituisco il tuo potere io rivendico la mia libertà e ti restituisco la tua libertà io rivendico ciò che è mio e ti restituisco ciò che è tuo io ti perdono per tutto il dolore e la sofferenza che hai creato e chiedo perdono per tutto il dolore e la sofferenza che posso aver creato il passato rimane nel passato solo l'amore ci può connettere io ti auguro tutto il bene ed auguro a me stessa tutto il bene un altro respiro abbiamo tagliato ogni legame ora metti le tue mani sul tuo cuore e nota questo senso di pace dentro di te questo senso di forza e di chiarezza e la consapevolezza che tu sei un essere così potente sai che l'amore è la frequenza più alta su questo pianeta e tu sei amore lo sai ed ora invia questa frequenza d'amore fuori dal tuo corpo nello spazio intorno al tuo corpo semplicemente immagina che stai respirando quella luce bianca o dorata nell'area intorno al tuo corpo ora ruota i tuoi occhi all'insù come se stessi guardando la sommità del tuo capo e di anche se non so come restare al sicuro e come creare una bolla di luce protettiva intorno a me tutto quello che so è che è così adesso ed io mi sento appagata io cancello tutto ciò che non mi serve più e scarico tutto ciò che mi occorre per farlo ora con grazia, facilità e gioia grazie grazie così è così sarà o qualcosa di meglio ed ora torna gentilmente nel qui ed ora dicendo a te stesso come se stessi benedicendo a te stesso che io possa essere al sicuro che io possa essere in salute che io possa essere felice e che io possa vivere la vita con facilità ed ora immagina di irradiare queste benedizioni all'intero pianeta che tutti gli esseri possano essere al sicuro che tutti possano essere in salute che tutti possano essere felici e che tutti possano vivere la vita con facilità grazie grazie quando sei pronto apri gli occhi pronto per fare tutto ciò che hai bisogno di fare